Benvenuti, siamo con Angelo Mancini, candidato sindaco dell'Italia dei Valori e della lista civica L'Aquila Oggi. Benvenuto Mancini. Grazie. Come mai la decisione di rompere con il centro-sinistra, di cui siete stati alleati per un certo periodo, e di scegliere la corsa in solitaria? Le motivazioni sono semplici, le ho spiegate più di una volta. Noi cinque anni fa ci siamo candidati in appoggio all'amministrazione Cialente, rimaniamo in questa coalizione fino alla fine del mandato, perché rispettiamo gli impegni, però i contrasti, soprattutto sulla gestione della parte amministrativa, la gestione urbanistica, soprattutto l'ambiente, ci hanno portato a scegliere un percorso diverso da quello dell'amministrazione Cialente. Che abbiamo verificato in questi anni, non siamo scesi mai a compromessi, si è data una continuità incredibile all'amministrazione precedente a quella tempesta, e quindi per questo, questa corsa solitaria, io non ho partecipato alle primarie, perché sicuramente se le avessi vinte sarei rimasto all'interno di questa coalizione, che non riesce a governare la città, ad amministrare la città, se le avessi perse sarei rimasto lì dentro. Quindi la motivazione è molto chiara rispetto ai patti di consigliatura, però alla fine della consigliatura noi già avevamo previsto un percorso diverso. Secondo voi che cosa andava fatto e non è stato fatto? E cosa immaginate di fare nel caso in cui lei dovesse essere eletto sindaco? Ma quello che non è stato fatto, già prima del terremoto, vediamo praticamente gli interventi della città, sulla città, sono stati soltanto la riapertura dei bagni a Piazza Palazzo. Altre cose non sono state fatte, poi col terremoto la situazione è diventata drammatica, ma lì sono iniziati i primi scontri con il sindaco Cialente, iniziati con il progetto case, con la scelta di fare quel tipo di intervento, non eravamo assolutamente d'accordo. Sono proseguiti con altri scontri che riguardavano soprattutto la gestione del territorio, tutte le varianti urbanistiche fatte e tutti gli interventi che poi hanno portato Cialente ad accettare la carica del vice commissario, accettare quella struttura commissariale che noi non volevamo e quindi far parte di quella struttura che oggi lui critica, che però lui stesso ha voluto e ne ha fatto parte. Quindi crediamo che questa struttura abbia rallentato la ricostruzione della città e pensiamo che debba questa filiera, Fintecnare, Luis e Cineas, andare via il prima possibile e passare la mano al comune che dovrà organizzarsi però per costruire una filiera sua con tecnici locali anche se con un sistema di controllo importante. Questo per la ricostruzione del centro storico dell'Aquila e delle frazioni secondo me è fondamentale. Non si è riusciti con questa amministrazione a correggere anche, a far correggere la convenzione tra commissario e struttura e filiera, per cui le pratiche sono lì ferme e ogni cittadino non sa che fine abbia fatto la propria pratica e soprattutto non si dà il via alla ricostruzione pesante della città. Lei in questa corsa è affiancata da una lista civica aperta alla cosiddetta società civile che è un po' quella dalla quale viene anche lei, insomma lei si è avvicinato, non è un politico di professione, si è avvicinato relativamente tardi alla politica. Sì, ho iniziato nel 2002 ma l'azione è sempre stata solamente amministrativa, assolutamente non politica anche se faccio parte del gruppo dell'Italia dei Valori in consiglio comunale. Questa lista civica ma anche i candidati che sono all'interno della lista dell'Italia dei Valori in genere non hanno avuto esperienze amministrative di candidature. Questa dell'Aquila oggi è una lista che dà molto spazio al mondo della scuola quindi a studenti, insegnanti, personale non docente ma anche a una parte importante che è quella di Sinistra per l'Aquila gruppo che in consiglio comunale è rappresentato da Giuseppe Bernardi col quale abbiamo condiviso questo progetto. Non è stato possibile condividerlo con altri gruppi che lo stesso erano molto vicini a noi che hanno scelto la strada di appoggiare ancora una volta l'amministrazione Cialente. Sì, infatti per un certo periodo si è parlato al di là della scelta di Sinistra per l'Aquila che era chiara sin da subito, di una liaison con Sinistra Ecologia e Libertà o con rifondazione comunista che poi non c'è stata. A fronte di una sinistra che non è riuscita a far diventare sua alleata però si parla di una simpatia corrisposta sempre fra lei e Giorgio De Matteis. Ma no, questa è una favola inventata da qualcuno, penso anche da qualcuno vicino a Cialente perché bisogna screditare chi segue un percorso diverso da quello che segue lui. Non c'è nessun accordo con Giorgio De Matteis, lo conosco Giorgio, è una persona che io stimo però ha un percorso e una coalizione completamente diversa dalla mia. Una coalizione formata da tante persone che hanno lasciato il PDL e da tanti altri partiti come l'Udc, l'Udeor che nelle varie amministrazioni una volta sono a destra, una volta a sinistra oppure una parte a destra, una parte a sinistra delle coalizioni. Comunque penso che oggi la città dell'Aquila non abbia bisogno di queste grandi coalizioni ma di chi ha la capacità di amministrare soltanto. Quindi lasciamo un po' da parte la politica, cosa che mi aspettava un po' da parte di tutti e pensiamo un attimo all'azione amministrativa, come si riuscirà a dare un impulso vero alla ricostruzione della città, quella fisica, ma anche un impulso a quella sociale e soprattutto come si darà un impulso al lavoro in questa città, che è la cosa drammatica. Tante famiglie abbandonano la città perché la ricostruzione non inizia e perché non c'è assolutamente nessuna speranza di lavoro per i propri figli. Grazie.